Dal mese di agosto Monsignor Mario Oliveri non sarà più ufficialmente il Vescovo della Diocesi di Imperial Benga. Tra un paio di mesi la Diocesi sarà infatti guidata a tutti gli effetti da Monsignor Guglielmo Borghetti che fino ad oggi ha formalmente ricoperto il ruolo di coadiutore. Questo passaggio definitivo di mano era già previsto da tempo e ai piani alti del Vaticano era da tempo oggetto di discussione. Monsignor Oliveri, che recentemente si è incontrato con Papa Francesco, probabilmente per parlare di questa situazione, era stato affiancato nel mese di marzo del 2015. Un momento di tensione per la Diocesi locale che ha dovuto far fronte con alcuni casi scottanti, su tutti quello famoso di Don Massaferro. Ora la fuoriuscita di Monsignor Oliveri, che andrebbe quindi in pensione, potrebbe giungere con una lettera di dimissioni del diretto interessato o con una disposizione proveniente da Roma. Grazie. Grazie.